Oggi ragazzi, visto il grande numero di richieste da parte vostra, vi farò vedere dalla fase di scatto fino alla post-produzione come ho realizzato questi ritratti che ho inserito nella recensione del Sony 50mm f1.4 G Master uscita sul canale qualche giorno fa. Questo video potrebbe essere una sorta di episodio pilota per una nuova serie da portare avanti qui sul canale, quindi se l'idea vi può interessare supportatelo fin da subito con un bel mi piace e quando arriveremo a 1000 like realizzerò una nuova puntata. Perché questa soglia? Beh, c'è chi dice nei forum che noi youtuber della nicchia fotografica parliamo solo di attrezzatura e non di vera fotografia. Bene, allora io sono curioso di vedere se un video come questo dedicato più alla fase di scatto e alla post-produzione riuscirà ad andare meglio in termini di visualizzazione, like, eccetera, rispetto alla solita recensione. Va bene, torniamo a noi e prima di passare al setup luci vediamo di smarcare proprio la questione attrezzatura. Per chi si fosse perso la recensione, beh, questi ritratti li ho scattati con il Sony 50mm f1.4 G Master appena uscito insieme con una Sony a7R4 da ben 61 megapixel che Sony stessa mi aveva prestato per poter fare la recensione. Ecco, mi raccomando, non focalizzatevi troppo sull'attrezzatura utilizzata perché vi posso garantire che il risultato che avete visto si può ottenere anche con delle cose più, tra virgolette, normali. Proprio perché il grosso del lavoro in queste foto è fatto dall'illuminazione della scena. Per quanto riguarda invece i parametri di scatto, trattandosi di scatti in luce controllata, ho impostato per prima cosa ISO 100 in modo da avere la foto più pulita possibile. Come tempo di scatto, un 250esimo di secondo per non avere problemi con il micromosso. Mentre per quanto riguarda l'apertura, per i vari scatti della serie ho ottenuto un diaframma compreso tra f1.4 e f2.5 per due motivi. Il primo, banale, è che questi scatti mi sarebbero poi serviti nel corso della recensione per farvi vedere le capacità ottiche di questo obiettivo anche ai diaframmi più aperti. Mentre il secondo è che in ogni caso mi piaceva l'idea di avere poca profondità di campo, nonostante lo sfondo uniforme alle spalle del soggetto, per far concentrare maggiormente lo sguardo dello spettatore sugli occhi di Giulia andando poi a sfocare i capelli. A questo punto ragazzi eccoci sul set perché passiamo alla parte secondo me più importante, ovvero l'illuminazione. Come vi avevo accennato nella storia sul mio profilo Instagram ho scelto di realizzare queste foto in luce continua, anche se, come sapranno benissimo gli studenti del mio corso Flash Facile, avrei potuto ottenere lo stesso identico risultato anche utilizzando proprio il flash. Diciamo solo che in questa occasione ho voluto sperimentare con qualcosa di diverso. In ogni caso la mia idea per questi ritratti era di creare qualcosa che fosse dal punto di vista dell'illuminazione molto pulito e quindi ho costruito tutto il mio set attorno a uno schema luce a conchiglia, argomento a cui avevo già dedicato un intero video che vi lascerò linkato qua sopra e sotto in descrizione. Per fare un ripasso molto veloce lo schema luce a conchiglia che è usato molto spesso nelle foto beauty prevede due punti luce, uno dall'alto verso il basso centrato sul soggetto e un secondo punto luce dal basso verso l'alto per andare a riempire le ombre. Partiamo intanto dalla luce principale che nel mio caso è il faro che sto utilizzando ultimamente per illuminarmi nei miei video, ovvero l'RC350B di Smoorrig sul quale ho montato questo softbox ottagonale da 80 cm in modo da creare una luce morbida e allo stesso tempo anche una bella catch light circolare nell'occhio del soggetto. Il tutto è poi attaccato su un robusto stativo C-Stand con braccio a giraffa che mi serve per poter tenere la luce appunto dall'alto verso il basso in posizione centrale senza avere però l'asta dello stativo in mezzo mentre si scatta. Una volta spente tutte le altre luci e regolata la potenza della luce principale per avere un'esposizione corretta sul mio volto, come potete vedere la base secondo me è buona ma ci sono delle ombre abbastanza pronunciate in particolare nella zona sotto al mento. Ed è qui che entra in gioco la seconda luce che nel mio caso più che una seconda luce vera e propria è stato questo pannello riflettente 5 in 1 che nel corso delle foto ho fatto semplicemente tenere in mano a Giulia, anche perché sapevo già che avrei dato un taglio abbastanza stretto ai miei scatti. Guardate ora come cambia la scena aggiungendo il riflettore, in più giocando con l'altezza relativa tra il riflettore e il volto si può regolare in un istante il grado di riempimento delle ombre. A questo punto l'illuminazione per il volto direi che è a posto, c'è però un altro problema ovvero che io sì sono ben illuminato ma tutto il resto si va a perdere un po' nello sfondo che è molto scuro. Come risolvere? Beh lo sei fa utilizzando delle luci da posizionare alle spalle del soggetto in modo da andare a creare un po' di separazione. In questo caso volendo creare maggiore interesse nella foto finale ho voluto giocare non solo con la luce ma anche con il suo colore. E per questo motivo ho montato dei tubi led pavo tube di Nine Light su questi stativi che ora vedete posizionati a coppie da un lato e dall'altro alle mie spalle in modo da creare proprio questo bordo colorato che mi va a definire e staccare rispetto allo sfondo. Il vantaggio di usare questi tubi led è che oltre al fatto che sono di ottima qualità si possono regolare facilmente con i vari colori per sperimentare al volo diversi tipi di setup. E in più essendo molto leggeri si possono spostare in un attimo per creare situazioni differenti e anche qui per avere maggiore libertà creativa. E una volta tornati in posizione regolata l'intensità della luce colorata questo è il risultato. Dopodiché giocando con il colore della luce, con la posizione eccetera si possono ottenere tanti scatti diversi. A questo punto resta solo un ultimo problemino da risolvere ovvero che lo sfondo alle mie spalle si riceve parte della luce di questi tubi led colorati ma a mio modo di vedere è ancora un pochino troppo scuro. Poco male perché basta posizionare un'ulteriore luce da nascondere alle spalle del soggetto e puntata verso lo sfondo in modo da creare ulteriore separazione. Nel mio caso si tratta di un ulteriore tubo led, questo è di Freewell ed è quello che solitamente utilizzo nelle parti di parlato qua in studio come luce di contro. E con l'ultima luce in posizione abbiamo finito la preparazione del set. Ricapitolando siamo partiti con la sola luce principale, abbiamo poi aggiunto il riflettore, le luci colorate per creare un po' di separazione e infine un'ulteriore luce puntata verso lo sfondo per staccare ancora di più il soggetto. E partendo da questo set che abbiamo costruito insieme, questi sono gli scatti che ho realizzato. Ok, a questo punto ragazzi abbiamo visto l'attrezzatura, le impostazioni che ho scelto di utilizzare e come ho costruito il mio set per quanto riguarda l'illuminazione. L'ultima cosa che resta da vedere è la post-produzione di una di queste foto che io ho realizzato interamente con Lightroom. Come foto di esempio da post-produrre insieme ho scelto questo ritratto di Giulia che qui vedete esattamente come è uscito dalla fotocamera e anche senza alcun intervento a me pare un'ottima base su cui andare a lavorare. Per prima cosa vado a fare un leggero ritaglio, un leggero crop per sistemare Giulia esattamente al centro dell'inquadratura dopodichè vado ad applicare alla foto un mio preset che mi sono creato negli anni e che applico in genere a questa tipologia di fotografie. E già solo con un prima e un dopo con il preset applicato direi che abbiamo migliorato di molto. Ci sono però un paio di cosette da sistemare. La prima è l'esposizione, vedo la foto leggermente sovraesposta, lo si nota in particolare dalle alte luci sugli zigomi e quindi abbassiamo l'esposizione diciamo di un terzo di stop e allo stesso tempo abbasso anche un pochino le luci, vado a regolare le luci intorno a questo valore. Sistemiamo anche il bilanciamento del bianco che ora vedo un filino troppo caldo, magari abbassiamolo intorno a 5500 Kelvin. Fatto questo, il prossimo passo che voglio fare è andare a ritoccare le piccole imperfezioni sul volto oltre a ripulire in parte la fronte di Giulia da qualche capello volante. Ok, imperfezioni rimosse, a questo punto passiamo a fare un ritocco della pelle o più in generale del volto in questo ritratto. Ritocco che farò direttamente su Lightroom sfruttando il mio pacchetto di maschere basate sull'intelligenza artificiale chiamato Magic Mask AI di cui vi avevo parlato in uno scorso video che trovate linkato qua sotto in descrizione. Applicando in particolare il preset Magic Portrait, tempo che Lightroom vada a ricalcolare tutte le maschere basate su intelligenza artificiale ed ecco che abbiamo fatto un veloce ritocco del nostro ritratto che poi possiamo ovviamente tarare sulla nostra foto intervenendo sulle singole maschere e regolando il cursore fattore. Andiamo magari ad abbassare leggermente la levigatura della pelle, per quanto riguarda invece l'iride voglio rendere tutto un pochino più intenso e brillante quindi aumento l'intensità di questa maschera e direi che per quanto riguarda questa parte abbiamo fatto, come potete vedere, si è trattato praticamente di un click. A questo punto sempre sfruttando le maschere voglio fare un pochino di dodge and burn, la tecnica con cui si vanno a rendere le aree chiare un pochino più chiare, le aree scure un pochino più scure per creare alla fine maggiore tridimensionalità. Vado quindi a creare una nuova maschera pennello con la scorciatoia da tastiera lettera K, altrimenti lo si può fare cliccando in alto a destra sul pulsante nuova maschera. Nel pennello imposto un flusso molto basso intorno a 15 e se non sapete cos'è vuol dire che vi siete persi il video di qualche settimana fa in cui lo spiegavo nel dettaglio. Dicevo flusso molto basso e iniziamo con un burn, cioè con un andare a scurire le aree più scure. In particolare su questa foto voglio intervenire sulla parte al di sotto degli zigomi, qui sulle guance. Quindi pennello grande, aumentiamo al massimo la sfumatura in modo che sia molto morbido, dopodiché vado a fare qualche pennellata in questa zona e con il flusso basso che abbiamo impostato, come potete vedere stiamo costruendo pian piano il nostro effetto e facendo un prima e un dopo direi che ci possiamo fermare qui. A questo punto dopo il burn facciamo la fase opposta, ovvero il dodge, rendere le aree chiare un pochino più chiare. Quindi nuova maschera, pennello, andiamo di nuovo a controllare che il flusso sia rimasto a 15, sì, e impostiamo un dodge, cioè un'esposizione a più uno. Tanto con il flusso molto basso, come detto, costruiamo gradatamente il nostro effetto. E quello che vado a fare è andare a pennellare delicatamente qua nella parte degli zigomi per dare un tocco di luce in più in questa zona. Infine l'ultimissima cosa che voglio andare a fare su questa foto è esaltare un pochino l'alone di luce che c'è alle spalle di Giulia, quello che abbiamo creato fisicamente sul set con quel tubo led puntato verso lo sfondo. Quindi per farlo con Lightroom è molto semplice, in questo caso nuova maschera, creiamo una nuova maschera di seleziona dello sfondo, che come potete vedere ha identificato perfettamente lo sfondo alle spalle di Giulia. Dopodiché vado a intersecare questa maschera con una sfumatura radiale che traccio dalla parte centrale verso l'esterno, replicando di fatto con le maschere lo stesso effetto della luce fisica. Dopodiché aumento un pochino l'esposizione solo nella parte alle spalle di Giulia e già che ci sono con lo strumento colore vado a dare anche un tocco di colore in più alle spalle. Ecco, diciamo che potrebbe andare bene questo blu più o meno. Questo era il prima, questo è il dopo, almeno a mio gusto da molta più separazione. E direi che con questo abbiamo finito. Questo era il prima da cui siamo partiti e questo è il dopo. Arrivati in fondo ragazzi, io spero vivamente che questo video del dietro le quinte dalla fase di scatto alla post-produzione vi sia stato utile. Vi ricordo di supportarlo con un bel mi piace, condividete il video con tutte le persone che potrebbero essere interessate e noi ci vediamo alla prossima!